Le piogge incessanti hanno inondato le campagne dell'Albania occidentale, privando molti centri urbani di elettricità e costringendo molti abitanti ad abbandonare le proprie case. Diverse le persone date per disperse. Non si hanno più notizie dei tre che cercavano a bordo di un'auto di sfuggire alla furia delle intemperie. Resta lo stato di massima allerta.